Benvenuti a questo speciale informazione e ben trovato all'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola. Grazie, buonasera, buonasera gli ascoltatori. Siamo qui per parlare di uno degli argomenti che hanno tenuto banco negli ultimi giorni, nelle ultime ore, uno provvedimento molto importante approvato in regione, ovvero il piano casa. Parliamo di urbanistica, parliamo di strategie anche a livello lavorativo e conseguentemente occupazionale. Ma assessore, in maniera molto chiara spieghiamo ai nostri telespettatori cos'è il piano casa. Ma innanzitutto il piano casa bisogna dire quando nasce. Il piano casa è una legge, un po' di emergenza, nazionale, nata nel 2009 da un accordo tra il governo allora, che era il governo guidato da Silvio Berlusconi, le regioni e tutte le realtà territoriali, ANCI e rappresentanti delle province. Con che finalità? Nel 2009 si cominciava a capire che nasceva una crisi economica, soprattutto nel comparto edile, e quindi si voleva adottare un provvedimento straordinario che potesse, nelle diverse regioni Liguri, dare la possibilità ai cittadini di poter fare degli interventi urbanistici di riqualificazione dell'esistente. E questo non mi stancherò mai di ripeterlo. Con piano casa si intende non nuova cementificazione, non nuove costruzioni, ma riqualificazione di ciò che è già stato costruito. Quindi si lavora su quello che c'è già. Sì, si potranno fare degli ampliamenti, si potrà anche abbattere un edificio e spostarlo in un raggio di 25 metri, per esempio, e poi magari lo dirò meglio dopo, ma comunque noi abbiamo previsto la possibilità di abbattere, perché noi non dimentichiamoci che la Liguria, soprattutto in alcune zone, è stata anche vittima di recenti alluvioni. Abbiamo anche un terreno franoso in alcuni punti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo previsto che chi vorrà spostarsi, avendo un'abitazione in zone a rischio idrogeologico, frane, alluvioni, potrà farlo, potrà avere anche un incremento che va dal 35 al 50%. Un premio. Un premio, un premio importante, anche perché ovviamente chi abbatte una casa si sposta, ne costruisce un'altra, ha tanti costi da sostenere. Quindi noi dobbiamo motivare i privati, i proprietari di abitazioni a fare un certo tipo di interventi, ma lo possiamo solo fare se gli diamo degli incentivi, perché se glielo ordiniamo è giusto, è ovvio che non lo faranno mai. Quindi cerchiamo, il piano casa nasce tanto per rispettare il territorio, per mettere il territorio anche in sicurezza, riqualificando il nostro ambiente. Ci sono tante brutture in Liguria, ci sono tante case fatiscenti, abbandonate, ci sono tante anche realtà artigianali che forse hanno chiuso, oramai non potranno più riaprire, quindi possono essere eventualmente spostate, possono essere eventualmente riqualificate, magari facendoci degli appartamenti o facendoci di nuovo un altro tipo di attività artigianale al loro interno. E perché non applicare una legge apposta come il piano casa che facilita, da un punto di vista burocratico, il piano casa di Burlando, quello di prima che è ancora in vigore fino a fine anno, era un piano casa molto complicato, era un piano casa incomprensibile, era un piano casa fatto, non voglio far polemica politica, però questo lo devo dire, fatto nelle segreterie di partito. Una frase la scriveva un partito di sinistra, l'altra frase la scriveva un altro partito e alla fine c'era l'incongruenza delle norme, quindi una norma, diceva una cosa, arrivavi al punto 2, ma non sto scherzando, la norma del punto 2 era incongruente, incoerente con quella superiore. Noi abbiamo fatto un piano casa che non è figlio di nessuna segreteria di partito, un piano casa che è figlio degli impegni elettorali che Giovanni Totti ha preso durante le elezioni e guardate che se andiamo a rivedere le registrazioni anche qui a Impera TV, vedrete che quelle cose che Giovanni Totti insieme a me, insieme ai miei colleghi abbiamo realizzato nel piano casa sono le cose che lui ha detto anche aprile a maggio in campagna elettorale, perché noi gli impegni che prendiamo col territorio li rispettiamo. Un piano casa di poche pagine, semplificato, che tutti possano capire le norme, così qualsiasi cittadino può capire se può attuare il piano casa o no, può capire tra quale normativa deve muoversi e anche il privato che deve fare l'intervento urbanistico sa quello che può fare e sa quello che non può fare. E poi l'aspetto importante, la grande novità di questo piano casa è che il piano casa in genere quando il governo nel 2009 l'ha dato a disposizione della regione, essendo una legge diciamo eccezionale, straordinaria, era permanente, quindi durava un anno, durava sei mesi, in base a quello che deliberava la regione di competenza e anche qui da noi succedeva un teatrino abbastanza triste, perché magari un partito diceva del centro-sinistra di tenerlo un anno, l'altro partito diceva di tenerlo sei mesi, quindi diventava qualcosa di, anche di difficile comprensione da parte sia degli operatori del settore che dei cittadini, perché non sapevano quanto c'era, quando non c'era e quanto durasse. Noi l'abbiamo reso permanente, il piano casa è legge, diventerà permanente e i comuni lo dovranno adottare nei propri piani urbanistici comunali e l'aspetto importante è che quindi, perché l'abbiamo reso permanente? Perché il cittadino che magari oggi nel 2015 non ha i soldi per fare un ampliamento della propria casa, perché magari è tornato un figlio a abitare in casa, può dire, quest'anno ho troppe spese, però tra due anni mi metto i soldi da parte, fra tre anni e mi amplio uno spazio della casa, ci metto i miei figli, ci metto i miei nipoti, mi faccio qualcosa che mi è utile, lo posso programmare a lunga distanza, ma anche l'operatore edile può programmare sapendo che non deve correre in comune a farsi dall'autorizzazione, non deve muoversi se gli arriva il materiale in ritardo di un mese, non deve essere nel panico che poi finisce il piano casa, cioè dobbiamo dare la possibilità al territorio di lavorare, di poter i cittadini essere liberi di fare con norme chiare che tutelano il paesaggio, lo voglio sottolineare, il piano casa non va in deroga alle normative ambientali, paesaggistiche o degli spazi protetti, i cosiddetti parchi, i vincoli rimangono, i vincoli è ovvio che rimangono tutti di tutela, tutti i vincoli rimangono, il piano casa si inserisce solo nei PUC, nei piani urbanistici comunali, quelli che disegnano la città e che dicono sì qua possiamo fare l'ampliamento di una casa perché ci sono le condizioni per farlo, ma dall'altra parte rimangono le normative che ci sono, i parchi, così entriamo già nella polemica, che è stata la grande polemica di questi giorni, ma mi ha fatto anche un grande piacere perché ho visto che si sono risvegliati, cementificatori dei parchi, questa è stata l'accusa. Mi fa molto piacere questa polemica perché ho visto che anche portato alla ribalta mediatica alcuni personaggi ormai preistorici della politica della sinistra sia imperiese che ligure, quindi mi fa anche piacere, però a parte gli scherzi bisogna dire le cose come stanno, allora i parchi, anche il nostro, il parco delle Alpi Marittime, erano già nel piano casa di Burlande e Paita, c'erano sei parchi, ne mancavano quattro, quello delle Cinque Terre, quello delle zone ovviamente più di Levà, di Portofino, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto mettiamoli tutti insieme perché per noi non esistono parchi di serie A o parchi di serie B, ovviamente rimancono i vincoli ambientali, paesagistici dei parchi naturali, tanto più alle Cinque Terre, patrimonio dell'UNESCO, quindi ha una sua particolare anche tutela ambientale nazionale, certo che rimane tutto, non va in deroga, non è che anche se c'è l'impossibilità perché protetto da un punto di vista ambientale il piano casa supera questa legge e si decide si fa quello che si vuole, no, assolutamente. E comunque sotto come livello, diciamo. Sotto come livello, e comunque noi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che c'è un'autorità del parco, che ha anche un suo regolamento all'interno del parco e sarà l'autorità del parco a decidere caso per caso se si può intervenire col piano casa in quel parco di sua competenza, quindi abbiamo garantito l'autonomia legislativa normativa dei parchi, l'autonomia decisionale del parco di riferimento. Cosa si potrà fare per esempio? Ma non lo so, ma io mi chiedo, scusate, anche nei parchi esistono delle strutture urbanistiche, che esistono delle case, delle casette, ma perché uno non le può migliorare, non le può riqualificare, non le può modificare, non le può fare diversamente rispetto all'attuale, magari sono vecchie, magari sono brutte, magari meritano un restining, magari meritano un ampliamento perché ci si può creare qualcosa anche di attrattivo da un punto di vista turistico. Perché no? Non lo voglio imporre come regione. L'ente parco deciderà, sì, questa cosa si può fare perché si sposa bene con il paesaggio parco, ma non è che arriva uno e dice, qui ci costruisco dieci crattacieli, otto palazzine a cinque piani. Questo molte persone, vabbè, non sanno tanto cosa dire della sinistra purtroppo, in questi giorni stanno andando a strumentalizzare o rendere demagogico. Io ho sempre detto, io sarò l'assessore all'urbanistica, non della politica, della demagogia, della retorica. Io sarò l'assessore e sono l'assessore all'urbanistica dei cittadini, quindi cerco di operare per tutelare i cittadini. Non dimentichiamo che in Liguria ci sono 4.000 persone che hanno perso il lavoro nell'edilizia. Noi due martedì fa abbiamo ricevuto una delegazione in consiglio regionale che urlavano, erano arrabbiati, perché c'è gente che da 2-3 anni che non prendono lavoro. Una persona mi ha anche colpito, più sono anche padre di famiglia, mi ha detto, io cosa gli regalo ai miei figli a Natale? Lei il regalo glielo fa ai suoi figli, io non glielo faccio. Cioè sono frasi anche pesanti, che ti toccano. E io cosa gli devo dire a quei signori? Dico, solidarietà, si fa l'ennesimo ordine del giorno in consiglio comunale che vale tutto e vale nulla, dove tutti diciamo, gli vogliamo bene, vi capiamo, ma poi la politica deve rispondere, deve assumersi le sue responsabilità. Il piano casa non è la panacea dei problemi, non risolverà i problemi, si mancherebbe di tutta l'economia ligure, come non risolverà i problemi di tutti questi lavoratori, ma darà un forte input al lavoro, alla riqualificazione e al lavoro. Io spero che lo stesso signore che mi ha fatto quella battuta, magari tra qualche mese mi dica che ha di nuovo lavoro, perché grazie a questo strumento ha potuto ritrovare il lavoro. Cioè, dobbiamo essere concreti, dobbiamo essere veri, dobbiamo essere sinceri con le persone. L'unico modo per ridare spazio, fiato all'economia delle nostre piccole e medie imprese è ripartire anche con l'edilizia, ma l'edilizia sana. L'edilizia, l'urbanistica, non vuol dire cementificazione, basta questi termini anni 70, che forse magari in quegli anni lì dovevano vigilare di più su certe cose che sono state fatte, come anche a Genova nei primi anni 90, dove le amministrazioni di sinistra hanno fatto delle operazioni che le paghiamo nelle alluvioni. In quel periodo lì forse devono stare attento, ma ad oggi, con le normative ambientali, della tutela paesaggistica, la sovrintendenza, non si può più sgarrare da questo punto di vista. Il piano casa non ti permette di sgarrare, perché parliamo di piccoli o medi interventi. Sull'esistenza. Sull'esistente, quindi non è che uno va a chiedere una licenza per costruire qualcosa nel nostro parco quassù, ma magari nel nostro parco ci può essere un giovane che magari il nonno gli ha lasciato in eredità un vecchio magazzino, magari era una stalla, magari ci facevano qualcosa, adesso lui potrà magari chiedere, e sarà l'ente parco nel caso fosse nel parco o il comune del territorio, a valutare perché si potrà magari riqualificare quell'esistente, magari ampliarlo leggermente, con la giusta metradura, con i premi, e poter all'interno magari andarci a vivere con la propria famiglia, con i propri figli, anche perché sappiamo che vivere nell'entroterra costa molto meno rispetto a vivere la città. E poi non c'è politico, non c'è campagna elettorale, dove non sentiamo dire a tutti i candidati dobbiamo rilanciare l'entroterra, dobbiamo riqualificare l'entroterra. Ma come? Com'è che la riqualifichiamo? Facendo le deportazioni nell'entroterra, dobbiamo dare la motivazione alle persone ad andare nell'entroterra, andare a vivere il nostro paesaggio. Perché vede, io mi sento ambientalista dentro, io voglio bene al mio ambiente, voglio bene al territorio. Io sono orgoglioso, non è merito mio, che quando sono stato in amministrazione qui a Imperia, che ho sentito ultimamente ancora il sindaco sparare contro le vecchie amministrazioni, ma credo che dovrebbe pensare prima di dire certe cose, il parco urbano, che è il parco più grosso della Liguria, parco verde, anche se adesso è degradato, non lo puliscono, lo lasciano a se stesso, purtroppo è una cosa orribile da vedersi, anche se è una grande realtà. L'abbiamo fatto noi il parco urbano, un grande parco verde nel centro della città. Quindi io sono ambientalista nel senso che voglio bene l'ambiente, ma l'ambiente deve essere gestito, deve essere controllato, non degradato, abbandonato, oppure non vissuto. Certo, deve essere sostenibile. Ma deve essere gestito, deve essere gestito con norme, e questa lo è il piano casa, una norma semplice, chiara. Io ho detto ai miei collaboratori, guardate, io non voglio fare nuove leggi, ce ne sono già troppe, io non voglio fare lo scienziato che fa le grandi cose, io voglio fare le cose semplici, a portata di tutti i cittadini, che tutti i cittadini possono comprendere, e magari chi vorrà anche metterle in atto. Quindi le leggi devono essere comprensibili, perché fino a pochi tempo fa, anche io, ancora tuttora accade, c'è un comune che magari interpreta la norma in un modo, fa i 20 km, il comune è vicino, la interpreta diversamente, è la stessa norma. Cioè, non è possibile, cioè il legislatore deve capire che le norme devono essere semplici, e noi l'abbiamo resa più semplice. Però mi rendo conto che quando muovi un po' le cose, quando cominci a lavorare seriamente, a tanti dà fastidio. Perché vedete, secondo me, qualcuno di questa situazione di crisi economica, di un piano casa confuso, di una situazione poco chiara, magari ne approfittava, perché c'è sempre quello che nelle crisi ne approfitta. Noi abbiamo tolto i favoritismi, il piano casa è di tutti, è per tutti, e crediamo che con questo, molto semplicemente, daremo una mano all'economia e a tante famiglie Liguri. Vediamo in sovraimpressione questo schema, che recita proprio il piano casa della regione Liguria in 11 punti, un po' in questa maniera che avete voluto, come regione, sintetizzare questo documento, che poi è un documento corposo, insomma, quello originale. Sì, sì, sono diversi punti. Qui abbiamo selezionato 11 punti per renderlo più schematico. Il punto 2, ad esempio, parlavamo dei comuni, che anche in questo caso ho sentito dire ai comuni vengono delegittimati, non potranno dire la loro. Non è vero. I comuni dovranno adottarlo all'interno dei PUC. Ma le dico già che, ad esempio, la tanto il nostro capoluogo, capoluogo Genova, che deve adesso portare all'approvazione del proprio PUC, l'ha già adottato il piano casa al suo interno. Quindi i comuni lo stanno già facendo molti. Quindi non è che gli chiediamo un peso. Sanremo aveva un po' di preoccupazione. Ma Sanremo vedremo di risolverlo, ma non c'è nessun problema. Anzi, questo piano casa, per la riqualificazione di tante zone degradate di Sanremo, è importante. Ma io guardo anche, Sanremo è una città meravigliosa, ma vediamo anche, per esempio, che ci sono tante serre che sono oramai non più utilizzate, sono abbandonate a se stesse. E ho sentito anche l'intervento in consiglio comunale del consigliere Fera, che ha detto una cosa giusta, diventano anche pericolose quando c'è la pioggia, perché diventano veramente uno scivolo per l'acqua. Quante ospedalenti stanno lavorando con il proprio PUC, proprio in questa direzione. Che arriva violentemente poi in città, perché uno deve capire perché poi quando arriva l'acqua arriva così duramente nel centro di Sanremo. Ma perché uno che ha una serra che oramai è dismessa non può riqualificare quella serra, magari farci una piccola villetta ben inserita nel paesaggio verde di Sanremo, oppure farci un'attività artigianale per i figli che magari mettono insieme un'attività. E si cura anche il terreno. Ma perché? Appunto, mi spero. Ma perché? Ma questo è cementificazione? Questo, secondo me, è riqualificazione, dare anche opportunità di lavoro sia a chi poi deve fare l'intervento, sia a chi poi va ad utilizzare quell'intervento. Quindi noi abbiamo detto i comuni, lo dovete attuare nei vostri PUC, inserire i vostri PUC e poi, se volete, lo potete anche migliorare il piano casa. Cioè noi diamo la possibilità che un comune, se il comune di Sanremo, visto che parlavamo di Sanremo, ha la possibilità che il nostro piano casa andare anche un po' oltre il nostro piano casa, lo può fare. Quindi non sono delegittimitati, sono molto responsabilizzati i comuni, ma lo sono già perché i comuni tutti, devo dire, destra, sinistra che siano, i sindaci, sono tutte persone molto serie, competenti e attenti alle esigenze del proprio territorio. Quindi noi gli diamo una mano su tutto quello che possiamo fare. Poi altri punti importanti di citazione? Ma una cosa molto politica, molto che viene anche questa, cavalcata molto dalla sinistra, in Italia esiste la possibilità di fare i condoni. I famosi. Non l'abbiamo inventati noi in Regione, quelli non è colpa mia. Se una casa è condonata, davanti alla legge, non davanti a Marco Scaiola, Federico Marchi o chi altro, davanti alla legge, quella casa ha pagato il suo pegno. Cioè quella casa è a posto davanti alla legge, perché ha pagato il condono, ha fatto le trafile che devono essere fatte per essere condonata. Secondo il modello burlando, secondo me molto stalinista, perdonatemi, del piano casa burlando paita di questi anni, se tu avevi una casa condonata, nella zona condonata, non poteva essere fatto il piano casa. Perché? Punizione a vita. Avevi la X a vita. Anche se la vendevi a un altro, quell'altro si portava dietro tutto a vita. Noi invece abbiamo tolto questa normativa stalinista, perché secondo noi, ma non secondo me, secondo la legge, secondo la Costituzione, secondo le norme nazionali, se tu hai condonato hai pagato quella giustizia. Quindi quella casa torna ad essere uguale agli altri. Poi sarà il governo a decidere se fare i condoni o non farli. Però non è che ci devono a noi dire dobbiamo noi mettere una sanzione o una penalizzazione. Quindi è stato rintrodotto? E certo, l'abbiamo rintrodotto. Poi mi fa piacere anche il punto 5, lo voglio ribadire, perché qui la demagogia si spreca. Sono mantenuti gli strumenti di controllo ambientale, difesa del suolo e la tutela del pesaggio. Io la delega la tutela. I famosi vincoli che stanno di sopra. Ma non abbiamo tolto neanche quelli regionali, perché abbiamo dei vincoli regionali. E poi vi dico la cosa a proposito dei vincoli. Quando lo dico molti non ci credono. Il Liguria è vincolato quasi il 95% del territorio. È una cosa allucinante. Anche perché ci saranno vincoli magari di Serie A, vincoli magari dove si può anche discutere. Più leggeri. Certo, infatti noi che abbiamo avuto un incontro con la sovrintendenza, rivediamoli questi vincoli. Ma quindi ci sono già dei vincoli. E vogliamo metterli anche noi come regione? Già c'è una burocrazia forte. Noi invece abbiamo voluto un po' sburocratizzare. Poi si parla degli ampliamenti. E l'ultimo punto è quello del quale io vado molto orgoglioso. Ed è stato voluto anche perché, devo dire, questo piano casa, devo ringraziare i consiglieri regionali di Forza Italia, devo ringraziare i consiglieri regionali della Lega Nord, devo ringraziare i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, perché è stato un piano casa non fatto nelle segreterie di partito, ma l'abbiamo fatto in diverse riunioni tra consiglieri. Ognuno ha dato il suo contributo. E nell'ultima riunione è emerso proprio quest'ultimo punto, che è quello che permette a chi ha una casa in una zona franosa, o in una zona che ogni anno si allaga per questioni meteorologiche, di poter avere anche la possibilità di un ampliamento dal 35 al 50%, se si sposta in quelle che sono cosiddette zone sicure. Qui si parla di sicurezza. Qui ragazzi parliamo di sicurezza. E una manovra così non c'era nel precedente piano casa, non c'era nessuna manovra che garantiva la sicurezza del cittadino. Noi l'abbiamo introdotta nel piano casa. Poi cosa dire? Il piano casa adesso è passato in giunta, andrà in commissione e in consiglio. Questa è la mappa e l'ossatura del nostro piano casa. Ma io sono molto sereno. Se ci saranno degli emendamenti, io non guardo in faccia nessuno, non guardo le segreterie di partito, se ci saranno degli emendamenti che possono ancora migliorare questo testo, io sarò ben lieto di discuterli, di affrontarli, e anche di inserirli nel piano casa. Perché questo non è il piano casa di Marco Scaiola. Questo è il piano casa della regione Liguria, che deve servire ad aiutare tutti i Liguri. Quindi chiunque può dare dei contributi, avremo anche le audizioni, delle categorie, incontreremo chi può, chi vuole dare. Dei miglioramenti li dia. Non ascolterò e sarò molto severo, con chi invece farà della demagogia, della strumentalizzazione, della banalizzazione, come vedo che stanno facendo alcuni partiti o movimenti legati alla sinistra. Questo non lo tollero, perché non è più venuto il tempo di giocare. Qui c'è bisogno di lavoro, disoccupazione, crisi economica, e noi abbiamo il dovere di dare delle risposte. Quindi chi verrà al tavolino, facendo delle proposte giuste, che possono essere migliorative nell'interesse dei Liguri, verranno accettate, possono venire dall'estrema sinistra, come dai grillini, che io le metterò qua dentro. Se invece si farà della demagogia, si faranno quelle stupidaggini, che ho ancora recentemente, ho letto sui giornali, quello io non lo accetterò. Il piano casa deve essere approvato entro fine anno, perché scade, il piano casa è il 31 di dicembre, e quindi su questo noi andremo dritti come un tir, però aperti a chi vuole invece fare quella che io ritengo una collaborazione seria, in un momento in cui non c'è più da scherzare, perché abbiamo il 45% dei giovani sotto i 35 anni che sono disoccupati. Sono andato alla scuola di Ledimpera recentemente, andrò in quella di Savona tra qualche giorno, e i numeri sono spaventosi. Questi ragazzi, che sono anche ragazzi che spesso arrivano anche da situazioni disagiate, studiano, sono ottime le scuole di lì che abbiamo in Liguria, poi escono di lì e non trovano lavoro. Cioè qui dobbiamo metterci una mano sulla coscienza, le casacche politiche le lasciamo negli armadi, è finita la campagna elettorale, bisogna lavorare l'interesse dei Liguri. Grazie all'assessore Marco Scaiola per averci illustrato questo piano casa e per averlo reso semplice e fruivribile, perché poi è un argomento molto tecnico, ma è giusto che i cittadini, come dicevamo, capiscano ed entrano proprio all'interno di questi documenti su cui si basa poi il futuro e anche quello occupazionale di Monti Liguri. L'edilizia poi non è solo il cosiddetto muratore, ma è anche l'idraulico, l'elettricista, il fornitore, quindi c'è tutta una catena economica. Grazie di essere stato con voi. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi per il record di arascolto. Arrivederci. Grazie a tutti.